ben ritrovati amici di weekend dance location mostra d'oltre mare fuori grotta napoli insieme a jessica come stai benissimo dino ciao questa mattina ci ha invitato qui in fiera perché perché c'è una fiera molto importante energy med e noi che siamo sempre un po al passo con le innovazioni non potevamo mancare assolutamente prima clima energy med energie comfort sempre con bima clima la presenza di prima clima qui in fiera napoli vedino tu sai che comunque siamo sempre al passo con le innovazioni infatti proprio due anni fa abbiamo sposato il progetto del conto termico che ha come punti principali l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili che sono un po gli elementi cardine di questa fiera di questo evento spieghiamolo bene agli amici di weekend dance da casa che cosa è il conto termico il conto termico è un meccanismo di incentivi che mette a disposizione lo stato per permettere a privati installatori imprese ma d'altronde anche la pubblica amministrazione di risparmiare e di comunque spingere beneficiari a rinnovare un po quelle che sono le strutture già esistenti quindi è bene comunque specificare che chi può accedere al conto termico e chi già ha una struttura e deve apportare delle migliorie quello che comunque risulta molto vantaggioso è che il cliente può risparmiare il 65 per cento dei costi del nuovo impianto che va ad installare e addirittura ha la possibilità di recuperare l'intera cifra se questa non supera i 5 mila euro in un'unica rata dopo circa 90 giorni entriamo nello specifico il conto termico a cosa è collegato ma diciamo che è collegato a tutti quei prodotti che hanno un forte risparmio energetico e che vanno ad apportare una miglioria ad impianti che già comunque si hanno quindi parliamo di pompa di calore parliamo di caldaie a condensazione parliamo di climatizzatori ma anche di pannelli solari soprattutto e noi con vima clima trattiamo tutti i marchi inerenti proprio a questi impianti di ottima qualità e di una certa rilevanza vima clima li aiuta comunque con le pratiche del conto termico in quanto abbiamo assunto un team di ingegneri molto qualificato che segue tutto dall'inizio alla fine grande fiera ne parliamo con l'ingegnere oriani odo acre oriani allora ingegnere è importante il risparmio energetico ma è importante oltre al risparmio energetico anche comfort ovviamente insomma oramai tutti i produttori garantiscono dei propri prodotti per garantire un risparmio energetico quindi vuol dire sostanzialmente andare a ridurre quelle che sono le spese per una famiglia soprattutto per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria e nel contempo garantire il comfort all'interno delle abitazioni che sono sempre più ermetiche sempre più chiuse con nuovi infissi e purtroppo possono creare problemi di discomfort all'interno delle abitazioni stesse con gli impianti di ventilazione meccanica controllata si garantisce questo garantendo un elevato risparmio energetico e quindi garantendo anche una spesa per stare bene per consumare poco decisamente inferiore siamo in compagnia di Enzo Marigliano l'agente per la campagna del marchio Shafto siamo nello stand di Vima Clima e Energia quanto è importante? oggi è un argomento molto attuale soprattutto in funzione del DL28 per le nuove costruzioni abbiamo l'obbligo di erogare il 50% delle energie del fabbisogno dell'appartamento con energie rinnovabili noi siamo appunto qui per presentare i prodotti Shafto che riguardano le pompe di calore in particolare per il riscaldamento, il condizionamento e l'acqua calda sanitaria come gestire a distanza le apparecchiature? si con lo ShaftoLink abbiamo oggi un'applicazione molto facile, fruibile per gli utenti finali si scarica direttamente sul cellulare per monitorare a distanza i consumi e gestire gli apparecchi parliamo con Marcello Monaco si occupa di cosa? io sono agente per la campagna della LG un'azienda che negli anni ha investito moltissimo sulla climatizzazione per i sistemi a portata di refrigerante variabile i famosi VRF che sono impianti molto flessibili adatti a tutto il settore terziario e anche pubblico come scuole, ospedali e quant'altro la LG in questi anni ha investito tantissimo in brevetti che hanno conferito ai nostri prodotti il maggiore coefficiente di prestazione e questa ha una grande incidenza anche tangibile come contributo per il conto termico, quindi i nostri prodotti sono altamente tecnologici e se vengono scelti beneficiano da un più alto coefficiente di contributo del conto termico rispetto ai competitor in questo momento parliamo con Lubrano responsabile della campagna per quanto riguarda il brand GRI esatto, vecchia conoscenza di Weekend Dance GRI è importante come azienda per il risparmio energetico, per i comfort perché acquistare un prodotto GRI? allora GRI è il primo produttore al mondo di pompe di calore oggi praticamente siamo sul mercato campano da 5 anni in partner con la Vima Clima produciamo praticamente pompe di calore ad elevato risparmio energetico e anche quest'anno voglio dire con nuovi modelli e naturalmente sempre più performanti è tradizione Jessica come ogni anno quando inizia l'estate che Francesco Moccia, presidente di Vima Clima, organizza una grande festa perché per lui il lavoro è divertimento e quindi quest'anno qual è la località e quali saranno i giorni di divertimento lavorando? quest'anno abbiamo deciso di farla a Palinuro in una location bellissima, un villaggio che prende il nome di Hotel degli Ulivi ed è per tutti i nostri clienti installatori ovviamente siccome a noi piace pure un po' giocare e divertirci un po' abbiamo impostato una gara di fatturato si partirà da chi è più fedele a noi quindi effetto dei fatturati un po' più alti fino ad arrivare a esaurimento dei posti con tutti gli altri il primo giugno ci saremo noi con le telecamere di Weekend Dance a immortalare con le immagini e le interviste questi 5 giorni di grande festa organizzati da Vima Clima ma non sveliamo niente perché è tutto in work in progress e perché ci saranno tantissime tantissime novità e sorprese a tutti i nostri clienti